E quando l'angelo si recò nella notte ai pastori di Betlemme, le sue parole furono «Non temete, perché io vi annuncio una grande gioia». L'annuncio della nascita di Gesù, il Salvatore, la speranza del mondo, è stato un annuncio non di guerra, non di tristezza e neanche di sofferenza, ma un annuncio di grande gioia e a quell'annuncio anticipava «Non temete, non preoccupatevi». E l'angelo ancora ci ricorda «Non siate in ansietà alcuna» e poi ancora «Il vostro cuore non sia turbato». Egli è la gioia del popolo di Dio e in concomitanza con quella che è la giornata legata al Natale e che purtroppo per colpa di qualcuno sembra che il Natale sia il nome di un uomo panciuto con la barba bianca e con il cappello rosso conosciuto come Babbo Natale e qualcuno pensa che Babbo, il cognome, e Natale sia il nome. I cristiani hanno la necessità di trasferire anche ai più piccoli, alle nuove generazioni, al di là della favola che trae origini dalla storia di un uomo realmente vissuto, che noi non riusciamo a ricordare bene proprio per l'errore del nome Babbo Natale. Sono molto più felici nelle espressioni i credenti cristiani di lingua anglosassona che hanno il nome di Santa Claus dove Claus è il diminutivo di Nicholas perché dietro questa storia c'è la storia del Vescovo Nicola quello che il calendario degli amici cattolici festeggia il 6 dicembre. Si tratta di un Vescovo che esercitava le sue mansioni in Turchia. Perché vi dico questo? Vi dico questo per fare la distinzione affinché anche gli amici che ascolteranno dopo questo messaggio ma anche ciascuno di noi possa essere l'atore, portatore di una verità San Nicola, vescovo in Turchia, venne a conoscenza, così almeno narra la leggenda della difficoltà di un uomo del suo paese talmente indebitato che aveva il rischio che per coprire i suoi debiti doveva far o prostituire o vendere le sue tre figlie e davanti a questa triste notizia il cuore di questo uomo predicatore in quanto vescovo e quindi annunciatore dell'amore di Dio ebbe un sussolto e cosa fece Nicola di notte mentre l'uomo e le sue figlie dormivano da una delle finestre della stanza delle tre ragazze lanciò tre sacchettini di monete con questi soldi che trovarono nella stanza il papà delle ragazze pagò i suoi debiti e riuscì a far la dote per far sposare le figlie allora su questa storia è nata la leggenda che durante la notte Santa Claus porta i pacchettini ma c'è stata una notte molto più speciale una notte di tanti anni fa quando nella periferia in un luogo buio desolato di Betlemme nacque la più grande gioia dell'umanità ed è a questa gioia a questa creatura che tanto creatura non era perché egli era il figlio di Dio fattosi carne vorrei dedicare il messaggio di questa mattina e leggere con voi parte dei primi versi del Vangelo di Giovanni dove dal verso 9 quindi dal capitolo primo del Vangelo di Giovanni noi leggiamo verso 9 egli stiamo parlando e leggendo di Gesù il Cristo la parola di Dio egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo egli era nel mondo per mezzo di lui ma il mondo non lo ha conosciuto egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma sono nati da Dio e la parola si è fatta carne e abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre piena di grazia e di verità la parola di Dio Gesù il figlio di Dio Gesù che si è fatto uomo in mezzo a noi pieno di grazia e di verità guardare al Cristo guardare a questa incarnazione deve essere occasione lasciatemi l'esempio di due palline luccicanti su di un albero di Natale al cui interno i nostri occhi devono vedere in una la grazia di Dio e nell'altra la verità del Vangelo perché la venuta di Cristo è un atto di amore di Dio per ciascuno di noi sempre nel Vangelo di Giovanni noi possiamo leggere che siccome Dio ha tanto amato il mondo ha mandato ha donato il suo unico figlio la venuta di Gesù è sì un momento di grande gioia può essere nel suo ricordo un'occasione di festa ma la festa non ha alcun senso se noi non percepiamo guardando a Lui la grazia di Dio e non riconosciamo la verità che Egli è venuto ad annunciare perché sempre il Vangelo ci dice che conoscerete la verità e la verità vi farà liberi non serve a nulla se contempliamo il bambino Gesù se guardiamo un presepe se festeggiamo oggi ma già stasera è tutto archiviato è tutto dimenticato non è accaduto nulla dentro di noi purtroppo è quello che avvenne già più di duemila anni fa quando Giovanni poi nello scrivere e ricordare a quei momenti nell'intento ancora una volta di voler ribadire la divinità del figlio di Dio scrive Lui era la vera luce quella luce è venuta nelle tenebre per rischiarare le tenebre per fugare il buio per fugare ancora la notte dell'umanità una notte che ahimè arriva fino ai nostri giorni perché dove c'è desolazione dove c'è solitudine dove c'è tristezza dove c'è abbandono dove c'è sconforto dove c'è scoraggiamento dove c'è dolore dove c'è sofferenza dove c'è lutto dove c'è malattia dove c'è divisione dove ci sono rotture familiari dove c'è vedovanza è buio è molto buio ed ecco perché è importante che la chiesa che il cristiano che il credente che io che te che noi che ciascuno che ancora ha ricevuto quella grazia e verità faccia risplendere la luce non possiamo nel buio fare finta di niente non possiamo nel buio camminare a tastoni o tentando di qua e di là noi abbiamo ricevuto il dono di Dio e se ci ritroviamo nel buio abbiamo una grande possibilità accendere la luce e Gesù è quella luce quella luce che tanti non l'hanno conosciuta egli rimane ancora la luce per ogni uomo che viene nel mondo scrive Giovanni nel suo evangelo chiunque nascerà in questa umanità nasce nel buio fino a quando non incontrerà la luce di Cristo Gesù e c'è qualcosa di speciale riservato a tutti quelli che lasciano Cristo illuminare la propria vita che aprono il proprio buio alla luce di Dio riceverlo c'è una condizione non lo dobbiamo prendere e mettere dentro una mangiatoia non lo dobbiamo prendere e mettere sotto a un albero di Natale forse qualcuno oggi lo prende e lo mette in mezzo anche ad una tavola qualcun altro se lo sbagiucchia davanti e di dietro ma rimane soltanto un piccolo oggetto Giovanni scrive egli ha dato a chi lo ha ricevuto egli è venuto per essere accolto i suoi quelli del suo popolo quelli del suo paese non lo hanno accolto lo hanno rifiutato lo hanno rigettato quando egli cresciuto predicava per le strade qualcuno diceva ma cosa può venire di buono da Nazareth in verità egli era cresciuto a Nazareth ma era nato a Betlemme di Giuda la città di Davide e così come proviamo a condividere con gli altri la nostra fede la reazione di tanti è ma ma chi sei tu cosa puoi dire ma che ne sai ma chi te le ha raccontate queste cose chi è passato dalle tenebre del peccato alla luce del figlio di Dio può dire come il cieco di Gerico una cosa so che primo era al buio che prima ero cieco ma adesso ci vedo e quelli che hanno ricevuto la luce di Dio quelli che hanno ricevuto il dono di Dio quelli che lo hanno accolto quelli che hanno aperto la propria vita qualche giorno fa dicevamo quelli che hanno fatto di se stessa la mangiatoia del Signore quelli che si sono resi umili e semplici che si sono spogliati al suo cospetto così come faranno i maggio a depositare le loro ricchezze ma così come faranno anche i semplici e umili pastori chiunque ha contemplato il figlio di Dio ha compreso una cosa che davanti a noi siamo poveri seppur ricchi siamo miserabili seppur ci reputiamo onorevoli perché davanti alla sua grazia davanti alla sua verità abbiamo bisogno di riconoscere che egli è il Signore non accade nulla se lo guardiamo e diciamo ma com'è bello ma che bel bambino ma com'è grazioso ma com'è dolce ma com'è delicato ma com'è bellino occorre farlo nostro e qualcuno molto saggio e molto ispirato nelle scritture ebbe ai suoi giorni a dire che non si può conoscere apprezzare capire appieno la nascita di Gesù se non si comprende la sua morte egli è venuto ma è venuto non per regnare egli è venuto per morire per noi egli è venuto a dare la sua vita per te e per me non c'è nascita senza la morte di Gesù egli è venuto ed è morto e noi per gioire della nascita di Gesù dobbiamo partire dalla sua morte perché egli morendo ha pagato il prezzo del nostro peccato perché egli morendo ha versato quel sangue che ci ha comprati davanti a Dio e ci ha dato l'autorità come abbiamo letto da questi versi ci ha dato l'autorità di diventare figli di Dio non diventiamo figli di Dio facendo il presepo all'albero di Natale festeggiando il Natale guardando a Gesù bambino e dicendo che bello che grande dono ma si diventa figli di Dio accogliendo il dono di Dio attraverso la croce portando la nostra vita ai piedi della croce e dire Signore sono un peccatore ho bisogno del tuo perdono e il Vangelo le scritture ci dicono che nella sua morte c'è la nostra redenzione che attraverso il suo sangue egli ha perdonato i nostri peccati ma la storia non finisce alla croce la storia continua dopo la croce e la storia continua perché egli sceso da quella croce il suo corpo fu portato via da quella croce ma la morte non lo potei trattenere il sepolcro non lo potei conservare perché nel terzo giorno noi sappiamo dalla scrittura egli risuscitò quindi se tu hai creduto in Lui se tu credi in Lui al di là della festa che è attorno sia la festa soprattutto nel tuo cuore se tu hai creduto in Lui se hai confessato la tua condizione davanti a Lui se hai lasciato che la sua morte fosse lo strumento per la tua redenzione se hai lasciato che il sangue di Gesù lavasse i tuoi peccati oggi ho per te una grande gioia ho una grande notizia ho la notizia del Vangelo che non è la nascita di Gesù se tu hai creduto in Lui oggi tu sei un figlio di Dio questa è la grande notizia egli è venuto per darti la possibilità di diventare figlio e figlia di Dio a quelli che credono nel suo nome ai quali non sono nati da sangue né da volontà di carne perché non si diventa figli di Dio spargendo del sangue facendo attentati uccidendo i nemici della fede non si diventa figli di Dio per una volontà personale allora io mi sveglio questa mattina e decido da questo giorno sono un figlio di Dio e siccome ne sono talmente convinto e lo voglio far sapere agli altri me lo scrivo anche sulla fronte oppure mi faccio una bella maglietta e siccome tutti parlano l'inglese ci scrivo sopra son of God figlio di Dio e vado in giro per le strade mostro a tutti quanti la mia bella maglietta con la scritta figlio di Dio ma non si diventa tali per volontà Giovanni scrive sono nati da Dio Nicodemo Nicodemo se tu non nasci di nuovo non puoi ereditare il regno di Dio se tu non nasci da Dio caro amico caro fratello cara sorella se non nasci da Dio non sarai mai un suo figlio una sua figlia nascere da Dio vuol dire essere rigenerati le cose vecchie sono passate è tutto fatto nuovo è una nuova dimensione è una nuova condizione che è possibile per mezzo della parola che è venuta ad abitare in mezzo a noi e quella parola ci ha fatto vedere quel qualcuno che a distanza di qualche anno dalla sua predicazione qualcuno chiese al Signore mostraci il Padre e Gesù ebbe a dire sono da tanto tempo in mezzo a voi e tu mi chiedi mostraci il Padre egli è venuto per rivelarci Dio Gesù è venuto per avvicinare il regno di Dio a ciascuno di noi se qualcuno non l'avesse ancora capito questo è il Natale che vi ho detto all'inizio non è il nome di Babbo ma Natale è il giorno del ricordo della nascita non di un uomo qualsiasi non di una persona qualunque è il punto d'inizio del cristianesimo egli è venuto affinché io e te oggi potessimo essere figli di Dio e tutti i figli di Dio si fanno portatori di quella notizia così come l'angelo andò e dei pastori così come qualcosa di speciale vedere e compresero i maggi oggi io e te siamo chiamati ad essere ambasciatori del re del re di gloria del figlio di Dio dell'unigenito morto per ciascuno di noi siamo chiamati a portare la buona notizia oggi ci sono ancora tanti zambognari che portano la novena la buona novella suonando delle canzoni particolari ma non sarà la melodia di tu scendi dalle stelle a far diventare qualcuno figlio di Dio ma è questa parola è questa verità è questa grazia che deve raggiungere il cuore di ciascuno come crederanno se non c'è chi predica scriveva l'apostolo Paolo vero mai come faranno a credere se io e te non raccontiamo agli altri ciò che abbiamo conosciuto ciò che abbiamo ricevuto ricevuto perché i doni non si comprano i doni non si acquistano i doni non si possono pretendere perché la caratteristica del dono qual è si dice dono perché è un dono è un regalo e chi riceve un dono non sta ricevendo un premio perché è stato bravo perché è stato buono perché si è comportato bene no a queste cose ci pensa la Befana il dono di Dio è un dono gratuito e l'Evangelo dice a me dice a te che abbiamo ricevuto questo dono in dono l'avete ricevuto e in dono lo dovete dare agli altri dobbiamo continuare a trasferire oggi girano pacchetti da tutte le parti e tanti di questi pacchetti che gireranno continueranno a girare fino a quando non troveranno l'ultimo della catena perché si riceve un regalo non lo si piace e lo si passa a qualcun altro c'è il riciclo dei regali c'è il passaregali però ci sono anche regali spontanei belli sono gesti di amore gesti di affetto ma è il regalo per eccellenza quel regalo che nessuno deve riciclare che nessuno deve passare agli altri ma che lo dobbiamo scartare e tenere gelosamente per noi è il figlio di Dio che a questa straordinarietà egli è quel dono personale ma anche generale nello stesso tempo egli non è stato dato a qualcuno sì e a qualcun altro no Dio ha tanto amato il mondo non ha escluso nessuno tutto il mondo allora conosciuto e ancora di più oggi tutto il mondo può ricevere questo dono che è stato dato e quelli che non l'hanno ancora visto stanno aspettando te e me che gli diciamo ecco il dono di Dio per la tua vita la luce che rischiara le tenebre la luce che vuole risplendere dentro e sopra di te la luce che vuole fare dei tuoi giorni dei giorni gloriosi perché anche se conosceremo la valle dell'ombra della morte se egli è con noi possiamo dire con il salmista non temeremo male alcuno e allora sia ancora più grande la nostra gioia ma non diventiamo i gusti l'abbiamo avuto noi non ci importa più niente degli altri se facciamo del dono di Dio un qualcosa di personale ed esclusivo sarà come la manna nel deserto che quando ha preso in eccedenza diventava vermi il dono di Dio deve essere trafficato deve essere passato deve essere donato perché c'è più gioia nel dare più diamo agli altri più la nostra gioia cresce più la nostra rivelazione di Dio aumenta allora fratello sorella che da questo giorno ci sia nel tuo cuore tanta gioia per dare agli altri smettila di dire ma non mi pensa nessuno ma io non ricevo mai un pacchettino hai avuto il pacco più grande direttamente dalle mani di Dio hai avuto un regalo unico nella sua forma nelle sue dimensioni il figlio di Dio è stato donato per te e tu oggi con questa gioia lo devi annunciare agli altri e allora tanti altri potranno dire insieme a noi questo è il di fatto dal segnare questo è il Natale perché egli è venuto per nascere nella mia vita e nascendo in me io posso dire di essere un figlio una figlia di Dio Dio vi benedica grazie a tutti Grazie.